Mi unisco anch'io alla schiera di tante voci che durante queste sere si riuniscono per affidare alle mani della madre di Gesù le proprie attese, le proprie speranze, i propri progetti per il futuro ma anche le proprie delusioni, i propri timori, i propri dubbi, le proprie paure durante questo tempo così particolare che stiamo che stiamo vivendo. Ma questa sera voglio invitarvi a pregare per tutti coloro che nelle nostre comunità si adoperano e si impegnano per la formazione cristiana dei giovani. I nostri operatori di pastorale giovanile che io cerco di coordinare nella nostra vicaria di San Giovanni Rotondo sono giovani anch'essi impegnati in un cammino che è bello, che è edificante, luminoso ma è anche molto impegnativo perché richiede tanta responsabilità. Noi altro non siamo che collaboratori della gioia di questi nostri fratelli più piccoli. Cerchiamo di essere cercatori insieme con loro di quella sorgente di vita e di senso che dà un colore diverso alle nostre giornate. A nome della comunità noi cerchiamo di far capire loro che c'è una direzione diversa su cui impostare la propria vita, una direzione che va verso il bene, verso la carità, verso l'aiuto reciproco, verso il Vangelo. In che direzione va la tua vita? Su che cosa fondi i tuoi giorni? Che cosa dà senso alla tua esperienza? Sono queste le domande che noi cerchiamo di suscitare nel cuore di ciascun giovane che incontriamo e che in fondo sono le domande che nascono dall'ascolto profondo del Vangelo e della parola di Dio che ha sempre da dirci e da darci qualcosa di profondamente significativo. Come ci ha suggerito Papa Francesco nella scorsa esortazione sinodale, post-sinodale, nella Christus Vivit, la pastorale a favore dei giovani, delle diocesi, deve essere fortemente popolare, altamente inclusiva, cioè deve veramente lasciare spazio a tutti. È un modo di fare chiesa che valorizza l'apporto positivo dei ragazzi, che non li blocca, che non li mette a tacere, ma che spinge in avanti, fortifica i loro talenti, la loro disponibilità a lasciarsi mettere in dubbio, anche in crisi, dal Vangelo. È la scelta di una proposta di vita buona che va al di là degli steccati della paura, della diffidenza e della rabbia che spesso nella vita dei nostri giovani diventa quasi una coltre che dà tristezza e non permette di respirare aria buona. Allora noi vogliamo impegnarci in una pastorale della fiducia, una pastorale che si fida della parola di Dio, del suo spirito, ma si fida anche della creatività dei giovani, perché loro li conosciamo, sono dei vulcani attraverso cui veramente si può sprigionare il sogno di una vita più feconda nel bene, più impegnata, più a misura di uomo. Allora noi cerchiamo con la nostra vita, con la nostra testimonianza più o meno coerente, di camminare al loro fianco, né davanti né dietro, ma accanto a loro. perché possano scoprire attraverso la nostra vicinanza, i nostri gesti, la vicinanza e i gesti di Gesù che sta vicino a loro, anzi ancor di più sta dentro di loro, abita nei loro sogni, nelle loro speranze e dà loro una forma, una forma compiuta, un'immagine bella attraverso cui poter dire a tutto il mondo che è bello credere. È bello riporre la propria fiducia nel Signore, è bello sperare, è bello costruire con Lui un mondo nuovo. Impegniamoci in questo, non ci tiriamo indietro, perché nei giovani sta la nostra speranza è la speranza di una chiesa più luminosa, più feconda, più audace nel testimoniare la propria fede nella risurrezione di Gesù.